A domenica ci sono due partite formidabili. Penso che l'Inter... Ecco, noi puntiamo al terzo posto, quindi non dobbiamo regalare niente a nessuno. Regne il perfetto equilibrio. Galderisi regala alla platea ancora questo brivido, a pochi passi da Bordogne. Ma al 76esimo... Rigore per la Juve, tira Bredi 1-0. E' finita!